ti lo passi al prezzo? 20 mila per pagarti quei tassi ci puoi mettere mezz'ora perchè una bomba è vicina, sanità e come ti dicono i canadini di bombe? dicono che la nonna le bombe non è quello che dicono che la schiera ti piace a me non è come ci fai il tuo pietto per far piacere l'altro ma ti piace a me a chi ti piace? c'è la verità? a chi ti piace? a me a chi? a me a chi? andiamo a scendere, mi affatico no? guardate che si sta preparando oltre quello che si sta preparando per oggi guardate che si sta preparando la colazione che è? vuoi ci vuoi dire? non ci vuoi dire? non ci vuoi dire, ci vuoi dire allora guarda, primo giorno di lavoro dopo la convalescenza primo giorno di lavoro eccola qua vedete? eccola qua si va? sono vai